Erbstein perfezionò il ritiro precampionato perché i giocatori si allenassero e familiarizzassero. Inventò il riscaldamento pre-partita perché sapeva che non si vince soltanto durante i 90 minuti, ma anche prima e dopo. Inventò gli esercizi fisici personalizzati perché una squadra e una comunità si fondano sull'uguaglianza, ma ciascuno è unico. Inventò i ruoli sovrapponibili e intercambiabili perché un calciatore e ogni uomo deve essere poliedrico e sorprendente. Studiava agli atleti la loro conformazione, la reazione alla fatica, al nutrimento, alla temperatura. Scoprì che in certi periodi dell'anno le squadre meridionali andavano meglio per l'apporto vitaminico di frutta più rara al nord. Erbstein nasce nel 1898, suddito di Francesco Giuseppe, re d'Austria-Ungheria. Grazie. 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 Grazie.